Salve Bonaccini Salve a lei Lei ha elogiato la Meloni per le sue capacità Ma certamente, certamente E ma allora perché dovrebbe diventare il nuovo segretario del PD? Ma perché? C'è bisogno di dire cose innovative intanto che la Meloni non è fascista anzi è molto capace e dico a tutti andiamoci piano con le critiche perché povera Meloni Ma come povera? E' povera Meloni e lì da pochi mesi lasciamola lavorare in tranquillità non stiamo lì così addosso Addirittura, ma quindi dovrebbero votarla per questo? Quelli di destra, sì Ma come quelli di destra? Questa è l'innovazione Ma cosa dice? Sperare che mi votino quelli di destra E quelli di sinistra? No, quelli non li becchi più Ma come no? Sì, qualche lesbica lascerai ma poi finisce lì Lasciamo in pace la Meloni Ah, ok Torna Fratelli di Crozza Da venerdì 24 febbraio alle 21.25 sul 9 è in streaming su Discovery Plus